Dal ring al palcoscenico al Museo Ferroviario di Pietrarsa, tre round performance di Patrizio Oliva nell'ambito della rassegna Racconti per ricominciare. Cecilia Donadio. Patrizio Oliva si racconta in tre round al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. Mette i guantoni e saltella sul ring come ha fatto per tutta la sua vita sportiva, dall'oro olimpico al titolo mondiale. Solo che adesso lo fa recitando e regalando al pubblico frammenti di vita vissuta, soprattutto fuori dal ring. Tre round è un titolo che mi appartiene perché tre round è stato Erno Iround che io disputavo da direttante, fin quando da giovane, fin quando poi sono diventato campione olimpico. Questo dell'attore teatrale è un'altra sfida per me e che ho accolto con grande felicità perché ho scoperto che il teatro mi piace più della box.